Parliamo con l'allenatore del verdello Alberto Luzzana, Loro Alberto, che oggi tanta sofferenza, la vittoria è arrivata solo alla fine. È stato un anno difficile, quando parti con le potenzialità di vincere il campionato e non è facile. Grande mister! Grazie, grazie. E non è facile, abbiamo tenuto fede all'impegno preso presidente. Dall'anno scorso nella riconferma mia avvenuta nel momento della retrocessione ci siamo parlati e credo di averlo ripagato io con i miei ragazzi, il mio staff, di averlo ripagato della fiducia che mi ha dato. Quindi abbiamo sofferto, anche oggi abbiamo sofferto, nessuno ha cercato niente, è tutto l'anno che è così. Siamo i bergamaschi che giocano nel milanese, quindi è sempre durissimo, non ci hanno mai visto bene nessuno. Però credo che sia ancora più importante aver vinto oggi. I ragazzi hanno speso, hanno attaccato uno sticione, siamo solo noi e la dice lunga sul fatto che è stata veramente dura. Anche oggi è stata difficile, è una partita sempre giocata all'attacco, ha subito anche qualche contropiede del Casati. Il fatto che i gol siano arrivati al 91esimo, al 92esimo è una testimonianza del carattere dei ragazzi. Diciamo che il primo tempo è stato un primo tempo non molto bello, specialmente i giovani sentivano tantissimo questa partita qua. Io spero che hanno gli anni e la qualità per poterne fare dalle altre, che sono partite che ti portano via tantissimo. La mancanza di Cilone che è l'uomo che in mezzo al campo ci salta sempre, l'uomo ci mette in superiore autonetica. Mi stanno bagnando, attenzione. E quindi credo che la difficoltà è stata questa, però i ragazzi si sono portati molto bene, siamo contenti. È una dedica speciale a Presidente, a voi tutti quanti e un applauso anche al direttore sportivo Nermi che ha fatto un lavoro eccezionale. E per la prima volta mi sono accorto cosa vuol dire avere un direttore sportivo che lavora per la squadra, che lavora con me. Mi ha dato una grossa mano, gli devo tanto, lo stimo tantissimo. Nonostante sia giovane penso che abbia una carriera davanti anche perché ha dimostrato di essere un uomo serio. E adesso prima di pensare all'eccellenza si festeggia un pochino. Adesso sì, penso che fino a domani non si andrà a casa e festeggiamo con i ragazzi. Il Presidente è felicissimo, sono tutti contenti. Mi porti sempre bene anche tu, quindi è andata bene, sono contento.